Aglio, cipolla, prezzemolo, pomodoro, sale e olio. Poi si mette le patate, il formaggio, il pepe e il prezzemolo. Poi ci mettiamo una manciata di riso. Che il riso va dentro alla cozza. E la zucchina, vedi? Non mecca la zucchina. Certi vecchi antichi ci mettevano le uova in mezzo. E poi si mette a cuocere. E vedi che ti mangi? Come la faccio io. È una cosa mondiale. È prontissima. Ma, a nojo.